Contrabbandavano centinaia di migliaia di rotoli di tessuto provenienti dalla Cina e destinati alle imprese di pronto moda di Prato facendogli arrivare via mare al porto di Genova caricandoli sui camion alla volta della Toscana e ricapitandoli alle aziende del macrolotto il tutto senza versare un euro di IVA né pagare le imposte di confine è una truffa di dimensioni impressionanti quella scoperta dalla procura della Repubblica e dalle fiamme gialle di Prato al termine di due anni di indagine che si sono conclusi con 5 arresti e 27 misure alternative tra domiciliari e divieto di espatrio nei confronti dei 32 indagati, tutti cittadini cinesi tranne un italiano l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di 380.000 rotoli di tessuto importati evadendo quasi 30 milioni di euro di imposte un tesoretto raccolto sfruttando l'istituto del deposito fiscale che consente di non pagare l'IVA su un prodotto di importazione finché questo non viene venduto sul territorio nazionale questo istituto che è di agevolazione per il sistema economico in realtà è stato utilizzato per far cadere il carico fiscale su società schermo, missing trader, prestanomi in sostanza le società che ritiravano la merce dai container al porto di Genova e le consegnavano poi a Prato pur viaggiando con false bolle di accompagnamento dopo aver scaricato la merce distruggevano le fatture e non versavano i contributi un danno erariale compensato dal sequestro di 13 società, 24 conti bancari e 175.000 rotoli di tessuto operato dalla Guardia di Finanza per un totale di 20 milioni di euro grazie a tutti grazie a tutti